Mi spiace di non porle parlare in polacco, ma Sua Eccellenza Monsignor Vojda mi tradurrà. Grazie prima di tutto per questa accoglienza in questa Chiesa nella vostra casa. E grazie a tutti voi per la vostra presenza e vi saluto cordialmente. Vorrei fare solo qualche piccola riflessione sulla parola di Dio di oggi e in particolare sul Vangelo. Chciałbym poprowadzić bardzo krótkie rozważanie na temat Słowa Bożego, które dzisiaj zostało do nas skierowane. L'Evangelo dice che le folle cercavano Gesù, andavano da Lui. Perché? Perché c'era della gente che era affascinata dalla parola di Gesù? Questo ci porta a domandarci, allora chi è Gesù? Chi era Gesù? San Giovanni dice che Dio non l'ha mai visto nessuno. E allora credere in un Dio che non ha visto nessuno rischia a questo punto di diventare frutto di una fantasia. Ma quando San Giovanni dice che Dio non l'ha mai visto nessuno, aggiunge anche una cosa importante. Gesù, che era nel seno del Padre, in unione con il Padre, Lui ha mostrato il volto di Dio. A więc Jezus, który jest w łonie Ojca, ten właśnie Jezus ukazał oblicze Boga. Ecco, Dio dunque ha un volto. A więc Bóg ma swoje oblicze, swoją twarz, możemy powiedzieć. Dio ha una fisionomia, ha una presenza. Bóg ma swoją fisionomia, swoją obecność. Pensiamo brevemente. E' la stessa cosa pensare a persone che non conosciamo oppure è diverso vedere questa persona. E' la stessa cosa, non avere nessuno davanti a sé oppure è una cosa diversa avere un'altra persona di fronte. Cioè, to jest to samo, nie mieć nikogo przed sobą, nie mieć żadnej osoby przed sobą, a my siedzioni, czy też widzieć osobę i mieć przed sobą osobę, z którą możemy się kontaktować. Quando noi guardiamo negli occhi una persona, stabiliamo un contatto. Il primo contatto che avviene, quello con gli occhi, visivo. Kiedy mamy przed sobą osobę, to pierwszy contact, jaki się dokonuje z tą osobą, to właśnie spojrzenie w oczy. To spojrzenie w oczy stanowi, jak i pierwsze, pierwsza relacje z tą osobą. Quando una persona non vuole avere relazione con nessuno, abbassa gli occhi e sta da solo, cammina da solo, non vede mai nessuno. Kiedy ktoś nie chce nawiązać kontaktu z drugą osobą, to opuszcza wzrok i nie chce spojrzeć na drugą osobę. Interessante. Una volta, quando mi trovavo in una città come Hong Kong, dove c'è molta gente e la gente vive una accanto all'altro, avevo un'esperienza molto, molto significativa. Quando una persona non voleva andare per la sua strada e ad un certo punto voleva quasi essere solo, benché ci fosse tanta gente, abbassava lo sguardo e camminava diritto. I zauważyłem właśnie, że kiedy ktoś nie chciał mieć kontaktu z nikim, mimo, że tak dużo ludzi było dookoła, to opuszcza wzrok i szedł do przodu, nie patrząc na nikogo. Così succedeva, che quasi come se fosse lui solo, gli altri si scostavano e lui camminava sempre diritto. I ten sposób, bo on tak jakby chciał pozostać sam, jakby nie chciał tego kontaktu, więc opuszcza wzrok, pozostawał sam i szedł w sobie swoją stronę. Ma se tu guardi una persona, che ti viene di fronte, già stabilisci un kontatto, ti sposti, fai un gesto, già stabilisci una piccola relazione. Jeśli natomiast chcesz nawiązać kontakt z drugą osobą, to spoglądasz mu w oczy, wykonujesz pewne gesty i w ten sposób ten ktoś staje się bliższym. Ecco, Dio ha voluto stabilire con noi un kontatto, anche visivo, attraverso la persona di Gesù. W ten sam sposób Pan Bóg chciał nawiązać z każdym z nas kontakt poprzez Jezusa Chrystusa. Allora, la prima risposta a quell'interrogativo, chi è Gesù? Gesù è il volto, la manifestazione che noi abbiamo di Dio. A więc pierwszą odpowiedzią na pytanie, kim jest Jezus Chrystus, jest następująca odpowiedź. Jezus Chrystus jest obliczem Boga, objawieniem Boga, który przychodzi do nas. Per questo San Giovanni dice, Dio nessuno l'ha mai visto, Ma Gesù, che lo ha rivolato, Lui è il volto di Dio. Adesso c'è un secondo passo che dobbiamo fare. Ma Gesù è veramente quella persona, quell'essere umano, che rende manifesto il volto di Dio? Ma Gesù è veramente questa persona, questa persona, che objawia oblicze Boga. Ecco, il Vangelo ci manifesta Gesù nella sua umanità. Non solo nel suo aspetto fisico, ma anche nella sua personalità umana. Non solo nel suo aspetto fisico, ma anche nella sua personalità umana. Widzimy więc Jezusa, który jest zadowolony, który głasza dzieci. Rimprovera i discepoli, perché allontanano i bambini da Lui. Czasami napomina uczniów, którzy oddalają dzieci od Niego. Gesù è preso da un furore quando vede che la casa di Dio e il Tempio è diventato un luogo di commercio. Gesù si commuove davanti a una donna vedova a cui è morto il bambino, il figlio. Gesù si commuove davanti a una donna che viene accusata di peccato e lui abbassa lo sguardo. Gesù si commuove davanti a una donna che viene accusata di peccato e lui abbassa lo sguardo. perché non vuole nemmeno metterla a disagio psicologico. Gesù si commuove interiormente e piange. Gesù si commuove interiormente e piange. Sulla croce Gesù grida tutta la sua sofferenza e il suo dolore. Gesù si commuove che non hanno nulla da mangiare e Gesù si commuove dei suoi discepoli che sono stanchi. Gesù si commuove che non hanno nulla da mangiare. Gesù si commuove che non hanno nulla da mangiare. Ecco le tante manifestazioni dell'umanità di Gesù. Non è dunque Gesù soltanto la rivelazione del Padre di Dio ma Gesù anche nella sua vera umanità. A quindi non è solo Gesù si commuove che è un obiettivo del Padre di Dio ma Gesù. in relazione a me come essere vivente, come persona. A quindi la questione è come rivelazione con il Padre di Dio, il Padre Giovanni Paolo II, il Padre Francesco, il Padre Benedetto. Quante volte hanno detto che la fede non è una dottrina? Ma la fede è un'esperienza di Dio. Ma la fede è un'esperienza di Dio. Quando io allora sperimento nella mia vita la presenza di Dio e ho il senso della mia fede. Questo è lo sperimento nel momento in cui io sento che Dio mi ama, Dio ha misericordia, Dio ha compassione di me. Questo significa che Dio non ci ama perché noi siamo buoni, ma ci ama perché siamo peccatori. Questo significa che Dio non ci ama solo perché siamo bene, ma perché siamo peccatori e perché siamo peccatori. Quando siamo buoni è facile pensare che siamo cristiani. Ma pensare quando invece ci siamo allontanati da Dio e cominciamo a dire che Dio forse ancora mi ama, esperimentiamo la sua riconciliazione. quando io sono una peccora smarrita. Per questo la nostra partecipazione alla messa oggi è in fondo la manifestazione di questa fede. Io vengo qui perché qui sento che ho bisogno dell'amore della misericordia di Dio per la mia vita. E io vengo qui perché sento che ho bisogno di questo contatto con gli occhi, con le orecchie di Dio. Questo contatto che io ho con la parola di Gesù, questo contatto che io ho con l'Eucarestia, questo contatto che io ho con questi fratelli che non mi sono scelto, questo contatto che diventa un atto di amore e anche di comunione ecclesiale di famiglia di Dio. Questo contatto con Gesù, che si tratta di amore e di amore che si tratta di amore e di amore. Bene, queste sono alcune piccole riflessioni che io affido al vostro cuore e che naturalmente mi auguro nel vostro cuore. Lo e voi le portiate con voi a casa vostra e ne facciate tesoro quando vi servo. E' un po' come quando andate al mercato. Quando andate al mercato poi vi portate un po' i vostri sacchetti e le vostre cose che vi siete comprati e che vi servono per vivere la giornata. E così allora prendete queste cose, anche una sola parola, anche una sola riflessione che oggi avete ascoltato, che vi serve per la vostra vita, bene. Questo vi aiuterà, vi nutrirà. E che il Signore vi benedica e vi accompagni. Bene, bene. Grazie. Grazie.